Salve a tutti, sono Davide Calte del canale Davide Calte TV, un canale di reazioni musicali e recensioni soprattutto, quindi la tecnologia ne fa sempre da padrone. Abbiamo oggi qui un telefono da far provare che abbiamo già in embargo da circa un mese, è il Doge N50 2023. Un telefono che il Doge ha spinto tanto a mandarcelo per provarlo e infatti noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo provato per circa un mese, diciamo stressandolo, utilizzandolo con diverse schede e soprattutto scaricando tanti programmi. Vi vado a elencare le caratteristiche di questo prodotto, è un prodotto a livello estetico bellissimo, con le due fotocamere che si possono vedere, una da 8 megapixel e una da 50 megapixel, poi abbiamo una RAM di 8 GB che è possibile espandere fino a 15, quindi voi sapete benissimo l'utilizzo di un ragazzo, anche di noi stessi, che vogliamo più RAM per giocare e quindi avere più potenza di calcolo, soprattutto nei giochi. E anche una memoria storage da 128 GB, ma pensate un po', si può anche espandere fino ad arrivare a un terabit, un terabit, quindi parliamo di un telefono Best Buy con tanta potenza e soprattutto una batteria da 4300 mAh che vi assicuro, ma vi assicuro realmente che non finisce mai, dura davvero tantissimo, la potenza di scarico è veramente poca rispetto a tanti altri telefoni. Questa è dettata anche da un ottimo processore che appunto viene impiantato dentro e quindi è tutto perfetto a livello di resa. Abbiamo anche un caricabatterie da 18V che danno pure in dotazione insieme, l'aggancio per le cuffie, gecche che non hanno tolto, che insomma non ci piacerebbe neanche se lo togliessero sui grossi telefoni, perché sapete benissimo, l'utilizzo sempre del gecche 3,5 è sempre utile per qualsiasi tipo di cuffietto o qualsiasi altro tipo di cosa. Il telefono è di grande dimensione, con uno schermo HD da 6,52 pollici. E quindi parliamo di un telefono grande, quindi anche bello da vedere. È un contrasto 1000 a 1. Processore octa-core 4G e un dual sim, quindi insomma nel contesto abbiamo un telefono completo con tutto quello che è un telefono Best Buy non ha, perché realmente molti telefoni di questa fascia di prezzo non hanno tutte queste cose qua. Un sistema operativo ad hoc perfetto della Dodge che è stato aggiornato più volte proprio per essere sempre fluido e veloce. Quindi il mio consiglio assolutamente è di andare sul link che abbiamo sotto, avete anche uno scorto e potete trovarlo in qualsiasi store, anche Amazon, perché è già uscito. Quindi che cosa fate? Affrettatevi della possibilità di non farvi scappare un telefono Best Buy potente come questo. Ottimo prodotto, grazie ad oggi per quello che ci ha proposto. Grazie a tutti.